A distanza di un mese e qualche giorno dall'ultima diretta televisiva, ritorna domenica 9 maggio alle ore 20 su Cilento Channel il candidato a sindaco del comune di Castellabate, Domenico di Luccia, che continuerà a raccontare il programma politico attraverso la tv e i social. A causa delle restrizioni anti-covid-19 non è ancora possibile organizzare comizi pubblici, ha detto il candidato a sindaco. La data delle elezioni è ancora lunga, probabilmente la tornata elettorale si terrà a settembre o ad ottobre prossimo, ma io ho bisogno del confronto con i Castellabatesi. Per ora incontro i miei concittadini virtualmente, sapendo che mi seguono da casa, poi sperando in un rallentamento del covid, organizzerò incontri nelle varie frazioni del comune. Ci tengo a precisare che il mio percorso è rappresentato da una fase di ascolto dei cittadini e la relativa promozione del programma elettorale. In questo modo, insieme alla mia squadra, cercheremo di analizzare le esigenze che arrivano da chi il territorio lo vive, ma soprattutto aspettiamo proposte programmatiche e idee che possano incidere sul programma elettorale a favore di un miglioramento della città, di una maggiore vivibilità alla stregua di un turismo di qualità, alla creazione di vera occupazione e diritto al lavoro. Come risultato della fase di ascolto, domenica prossima, 9 maggio alle ore 20, in diretta tv, insieme al candidato a sindaco Domenico Di Luccia, un imprenditore turistico e un rappresentante delle associazioni sportive di Castellabate presenteranno idee e progetti per condividerli con i cittadini di Castellabate.